buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi lunedì 9 aprile questo è il canale 17 di fano tv sul digitale terrestre e questo è occhio ai giornali allora partiamo dal salto del giorno vediamolo subito con la grafica il beato di oggi è un nostro corregionale il beato tommaso da tolentino è un francescano della terza generazione originario appunto di tolentino dove nacque verso il 2250 il sole è sorto alle 6 43 e tramonterà alle 19 43 minuti vediamo subito il tempo con la protezione civile delle marche che per oggi prevede cielo molto molto nuvoloso con la possibilità di locali temporanei schiarite durante le ore centrali attenuazione della copertura dalla serata ma oggi ci sarà anche la pioggia che arriverà diffuse saranno diffuse nel corso della mattinata prevalentemente di debole intensità poi nelle ore centrali e per il pomeriggio sono previsti rovescio temporali sparsi più insistenti nel settore interno quindi in montagna limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 1900 metri temperature senza variazioni di rilievo tensione eventi poi domani domani è martedì 10 aprile avremo un cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni che non si escludono ma saranno deboli soprattutto sempre nell'entroterra temperature in aumento nei valori massimi e adesso i venti con venti deboli a tratti moderati dai quadranti meridionali condizioni di tempo stabile per la giornata di mercoledì seguite da un lieve peggioramento invece per la giornata di giovedì allora come sempre salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono attraverso i social network partiamo adesso con la lettura dei quotidiani e partiamo purtroppo con la tragedia che ha colpito tutta la comunità di valle foglia è morto un giovane un giovane di 20 anni una promessa del calcio una promessa del calcio una giovane che è uscito fuori strada con la sua automobile rientrava a casa dei genitori e purtroppo è morto vediamo i dettagli i dettagli in questa in questa pagina del corriere adriatico l'edizione di pesaro questa è la prima pagina il titolo d'apertura fuori strada con la sua cabriolet muore a 20 anni tornando a casa incidente nella notte in via belvedere a valle foglia vittima il portiere di calcio stefano conti per tutti per gli amici teto a centro pagina la vl che vince e supera la betaland grande esortio di brown è successo emozionante con pistoia all'overtime primo tempo dominato poi tanta sofferenza 80 a 72 questo è il risultato finale ma torniamo entriamo nelle pagine interne della nostra rassegna stampa eccola qui la fotografia di teto con la tenuta da portiere mentre a destra la strada in via belvedere dove ieri erano ancora visibili segni dell'incidente l'incidente dicevo nella notte a valle foglia stefano cattapuntato sull'asfalto della sua sito in cabrio per gli amici veniva chiamato dagli amici teto di montecchio stava tornando dai genitori a monte gridolfo dopo essere stato al palio della rana di fermignano fermignano secondo la ricostruzione l'auto ha sbandato per poi salire su un terrapieno e ribaltarsi il ragazzo ha ispirato sul colpo il giovane che giocava come portiere nel mondaino conosceva bene quel tratto di campagna senza illuminazione l'allarme è stato dato da una ragazza alle due di notte la zona di montecchio era ormai alle spalle la strada in quel tratto costeggia solo campi arati l'unica fonte di luce erano il cielo e le luci dell'auto in via in quella via che fino all'incrocio con la strada marrone la strada provinciale 64 non contempla appunto l'illuminazione se non quelle delle sparute abitazioni presenti e alle due di notte appunto una ragazza chiamato il 118 e i carabinieri però è stato tutto inutile quando sono arrivati era già morto altre pagine con i racconti gli amici di scuola le lacrime dei ragazzi dei compagni scontri e abbracci per capirci meglio shock tra insegnanti e studenti dell'is che aveva abbandonato però l'anno scorso questa è la fotografia ancora di stefano lo striscione del suo atletico il cielo adesso ha una nuova stella annullata la partita del mondaino contro l'accademia rimini queste sono le pagine sul sul corriere adriatico che tra l'altro ricorda anche come l'otto aprile del 2017 quindi questa tragica fatalità che ha dell'incredibile che lascia un dolore incolnabile nel cuore di tutti ed è un anno esatto a un anno esatto di distanza dalla tragedia sempre sulla strada dove è persa la vita la giovane laura di sciullo vent'anni come teto talentuosa studentessa del corso di perfezionamento di grafica al liceo artistico di urbino che è morta al volante della propria auto contro un albero della strada che attraversa galo di petriano anche lei stava tornando a casa fino a poco prima che la notte la inghiottisse per sempre aveva lavorato l'american graffiti di montecchio aveva salutato anche lei i suoi colleghi aveva detto vado a casa poi lo scontro l'ultimo atto finale andiamo adesso sulla pagina di fano invece tutti in spiaggia a fare pulizia a lido si chiede più decoro il comitato degli esercenti sta lavorando per la rinascita del lungomare sulla spiaggia vedete si pulisce si raccolgono i detriti le cose lasciate in giro dalle persone incivili beatrice bianchi del bikini mania e gabriele e piero del lido 23 sono stati intervistati da massimo foghetti hanno detto in qualche modo la loro mentre sotto c'è l'inaugurazione lo spazio per l'inaugurazione della scuola della pista ciclabile fano finile a scuola in bici e in sicurezza pedalata di gruppo per l'inaugurazione di questa che era una pista ormai attesa da tantissimo tempo e che ha visto la luce appunto nella giornata di domenica con l'inaugurazione ufficiale si parla anche sul corriere di questa mattina di sanità soprattutto dell'ospedale di fano che fine farà l'ospedale di fano c'è stato questo incontro questo consiglio comunale monotematico l'altro giorno sull'ospedale si è rispettato il programma degli impegni investimenti assunzioni reparti i numeri sono stati dati dal direttore generale di marche nord maria capalbo che in questa fotografia è ritratto sempre nella sede della civica assise di fano in via nolfi con il presidente della regione marche luca ceriscioli ma l'arrivo del privato si parla tanto di questa clinica privata che andrà ad aggiungersi all'ospedale di fano all'arma sinistra unita il plauso di noi città per il santa croce che è stato salvaguardato senigallia invece la pagina in senigallia ramazzotti dimettermi non ci penso proprio l'assessore ilaria ilaria ramazzotti nonostante il pressing che sta durando ormai da diversi giorni lei dice io non ci penso proprio a dimettermi però il sindaco mangelardi il sindaco di sinigallia è intenzionato anche se poi ha detto io ancora non ho deciso nulla sul da farsi però è intenzionato a chiederle di fare un passo indietro ma lei non lo vuole fare ora il perché ha chiesto le dimissioni di un suo assessore non è dato a sapere anche leggendo l'articolo da cima a fondo non si capisce il perché di questa cosa evidentemente sono sono grani interne che vogliono come si suol dire non lavare in casa senza che il mondo lo sappia panni sporchi che si che si puliscono appunto in casa ricci invece siamo a pesaro il sindaco di pesaro chiama un pool di tecnici per la strada della marina san bartolo dal comune 100 mila euro per riaprire il sentiero che porta nella spiaggetta sotto fiorezzuola di focare che purtroppo oggi è inaccessibile per quello che è successo quelli che quello che è successo l'incendio che è successo la scorsa estate giù i pini sempre da pesaro dopo il sì dell'università il taglio delle piante di via mancini a pantano dovrà essere autorizzato dagli esperti di firenze le radici stanno rovinando l'asfalto residenti sono tornati alla carica con l'amministrazione pesarese il foglia il fiume gli argini sono troppo fragili e questo per colpa delle nutrie le preoccupazioni di union fiume oltre alla schiuma che si è vista nei giorni scorsi giovedì scorso quella schiuma che si vede ancora in questa fotografia pubblicata sul giornale questa mattina oggi si avranno i risultati dell'arpam che ha analizzato questo inquinante comunque quella questa questa e quindi si capirà un po meglio di che cosa perché si è provocata perché si è formata questa schiuma però ecco la colpa soprattutto tornando al discorso degli argini è delle nutrie e di questo si è parlato mi ricordo anche qualche anno fa sul 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 fiume tauro colpa di queste nutrie nutrie che però lo ricordiamo sono protette lega attacco la giunta un'incapacità 5 stelle tensione a fossombrone dopo la diffida del prefetto all'amministrazione comunale il partito che si professa più digitale più trasparente più social inciampa per beffa della sorte su un problema di software e la giunta grillina non riesce ad approvare il bilancio del comune di fossombrone dalla valle foglia panterissima la carica dei 600 e la bici come auto aiuto scusate alla ricerca una grande partecipazione sul podio scavolini asd montecchio e fano a valle foglia ha registrato cifre record della quarta edizione della panterissima la medio fondo non agonistica da 82 chilometri tutti vestiti da pantera rosa vedete comunque vestiti da di rosa e queste sono alcune fotografie dell'iniziativa urbino invece un gemellaggio culturale tra urbino e fossombrone grazie agli studenti del liceo artistico è nata una guida sulla chiesa di san di san filippo proloco in assemblea al castello brancaleoni l'incontro c'è stato a piobbico straordinario successo per questa assemblea provinciale delle proloco al castello brancaleoni il presidente damiano bartocetti vuole pertanto esprimere un sentito ringraziamento alle proloco intervenute e alle autorità che con loro con la loro presenza hanno reso ancora più prezioso questo incontro poi si parla anche della palio della rana che c'è stato a fermignano alla contrada san lazzaro è andata la grande sfida una festa una festa fermignano per questa storica sfida 54esimo torneo storico del palio della rana che si è concluso ieri pomeriggio a fermignano con la contrada di san lazzaro che appunto ha vinto e grazie anche al suo scariolante che si chiama andrea giorgiani che così porta a otto le vittorie nell'albo d'oro raggiungendo la consorella la torre andiamo adesso sulla valle del cesano record di pubblico invece per la spaghettata che abbina lo sport alla solidarietà anche qui tanta tanta gente tante fotografie una giornata di sole di folla mondolfo 5.000 partecipanti alla storica sagra tra cui centinaia di atleti dalla romagna invece da cattolica imbratta con le sue feci un residence poi insulta e spintona tutti in caserma in manette un romeno sorpreso dai carabinieri nell'androne di un palazzo la pagina sportiva del corriere è per la gioia fermana samb ko in serie c giallo blu in 10 riescono a battere il gubbio e mettono la salvezza in cassaforte la squadra di capuano perde a bassano non è più seconda mentre il fano va a picco anche a bolzano in serie d invece il matelica inciampa la vis pareggia adesso il distacco si è ridotto a un punto la prima pagina invece del resto del carlino l'ultima curva tragica carambola in auto a montecchio la vittima stefano conti 20 anni operaio e portiere di calcio e sotto la macchina la macchina andiamo a vedere in questa pagina interna ecco come era ridotta la citroen scoppia una gomma muore a 20 anni stefano conti tornava a casa da monte gridolfo a monte gridolfo dopo una giornata con gli amici l'incidente in via belvedere che collega montecchio all'abitato di monte gridolfo la vecchia citroen c3 finita fuori strada dopo essere rimasta con un cerchione e sotto gli amici che guardano increduli la strada dove il loro compagno ha perso la vita aveva deciso di non fermarsi in discoteca perché ieri doveva giocare teto così veniva chiamato sognava di diventare un grande portiere non ha avuto il tempo la sua squadra il mondaino ha rinviato la partita siamo sconvolti dicono folla a portare fiori nella strada i ragazzi che ridevano con lui fino a due giorni fa adesso raccontano non si può morire così giovani e adesso le altre pagine del resto del carlino asportazione e chemio parliamo di sanità asportazione chemio ad addome aperto marche nord in chirurgia 12 ore di operazione con 40 sanitari convolti un tumore rarissimo al peritoneo solo sette centri lo operano in italia oltre ad eliminare le cellule neoplasiche che si trasformano in muco puliscono in loco con un farmaco a 42 gradi di temperatura insomma barbara calistri di 54 anni adesso vuol ringraziare tutti dice sono stati bravissimi mi hanno curato davvero ad altissimo livello e i dettagli trovate sul giornale di questa mattina e poi anche qui sulla pagina del resto del carlino da fano a fenile in sicurezza inaugurato l'ultimo tratto della pista ciclabile poi al furlo rocciatore si frattura una caviglia salvato con l'elicottero è successo intorno alle 13 il giovane ha messo il piede in qualche asperità cadendo all'indietro rimanendo ancorato grazie alla corda ad un'altezza di 30 metri è stato soccorso dall'eliambulanza che è partita da fabriano è un giovane rocciatore romagnolo che insieme ad un altro compagno aveva deciso la scalata ieri mattina di una delle pareti di roccia che delimitano la gola del furro proprio quella di fronte alla diga dell'enet e questa è la storia invece di un rifugiato di quelli che arrivano con 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 un po di speranza per cercare di vivere un po meglio la propria vita lui questo alie alieu arriva dalla gambia un paese dentro il senegal e ha cominciato così nel giro di un anno e mezzo ha con tanta determinazione ha cercato una squadra dove poter giocare una squadra di football a pesero ce n'è una e si sta facendo strada e adesso dice io visto che il senegal comunque adesso non ha più quei problemi che aveva un paio d'anni fa quando sono partito problemi governativi dove c'era un bel caos insomma adesso vorrei rimanere qui in italia qui ho trovato un lavoro qui ho trovato una squadra e insomma vorrebbe rimanere perché qui dice lui giocare questo sogno americano del football mi piace un bel po e pronunciando questa frase scrive elisabetta ferri chiudendo l'articolo forse non lo sa lui ma è già diventato pesarese quindi insomma è stato già gli è stata già data la cittadinanza in questo in questo sesso travolto da un'auto pirata vivo per miracolo due amici camminavano in su via arena pesaro un 19 anni colpito ad una gamba i vigili urbani stanno cercando una peggio 206 scura chi l'avesse vista è pregato in qualche modo di avvisare le forze dell'ordine sono state allertate anche tutte le officine per di questo caso quindi se questo è importante però il problema è che molta gente non guarda più la strada guarda il cellulare quindi uno che sta sul ciglio della strada poi figuriamoci a piedi e a rischio tantissimo record storico di multe invece a pesaro nel 2017 sono stati incassati 3,19 milioni di euro nel 2017 divieti di sosta lievitati del 16 per cento e uno su tre però continua a non pagare le multe a pesaro altrimenti la somma sarebbe ancora più alta scrive il giornale lo sport velocemente intanto la vl abbiamo detto che ha vinto 80 72 gli assi nella manica dopo tanta sofferenza una vittoria davvero che vale oro poi per quanto riguarda il carro di rossini passiamo dallo sport al carro di rossini vabbè il carro di rossini torna oggi a fano sarà trasportato questa mattina a fano rimosso da piazzale della libertà mercoledì è da allora fermo al porto di pesaro già impacchettato per il percorso che farà via mare infatti da pesaro tornerà con con una barca con una nave le operazioni per montarlo sulla motonave inizieranno intorno alle 8 e 30 partenza alle 10 e 30 e arrivo ci vorrà un paio d'ore un paio d'ore poi insomma sarà di nuovo a fano però non tutto il carro perché la testa di rossini rimarrà a pesaro perché insomma sarà itinerante quindi servirà per per fare un po di promozione tornando allo sport il fano che perde contro il sud tirol 2 a 0 fuori casa granata si arrendono alla sud tirol la squadra di brevi pre prende due gol e rimane ancora una volta a mani vuote adesso la storia davvero si fa molto pesante mentre la vispesero pareggia 1 a 1 contro l'agnonese anche lei fuori casa pari ad agnone mateliche adesso però è ad un passo bianco rosso in gol con lollo pauli la capolista cede all'aquila vetta dunque sempre più vicina e probabilmente insomma potrebbe vincere il campionato noi ci fermiamo qui la rassegna stampa è finita grazie per essere stati con noi a voi tutti l'augurio di una buona giornata ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti